Amici che bellissima giornata, oggi è lunedì, un gran bel giorno perché non c'è traffico nautico e quindi ovvio che la pesca sempre risulta essere meglio. Oggi a bordo c'erano due top player, attenzione due amici addirittura molto molto conosciuti anche nell'ambito non solo diciamo toscano ma insomma sono molto conosciuti, molto apprezzati perché sono due pescatori eclettici, sanno pescare bene in tutti i modi, la loro specialità è quella delle esche diciamo dure o morbide ma finte quindi sono agonisti sia dello spinning che sia Trotalago, mi riferisco a Gianluca e a Riccardo. Sono venuto a trovarmi, avevo voglia di fare un salto in salt water e oggi hanno trovato una giornata spettacolare di pesce in frenesia, vi lascio immediatamente la light della giornata, hanno pescato una curiosità, hanno pescato bene sia spinning che avvertica che colesca naturale. Ora guardiamoci un po' il filmato. Basti un po' il filmato. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!